Se truffe e criminalità vivono continuamente un processo di evoluzione, allo stesso tempo anche il piano di controllo non può essere da meno. Su queste fondamenta si basa il protocollo d'intesa sottoscritto oggi, lunedì 10 luglio, a Palazzo Ducale tra il prefetto greco e il coordinatore di Ossif e delegato ABI, Marco Iaconis, con l'intento di rafforzare la prevenzione della criminalità ai danni di banca e clientela. Particolare attenzione verrà prestata ai soggetti più vulnerabili come gli anziani, vittime quotidianamente di furti di identità e truffe bancarie, ma anche al contrasto degli attacchi agli ATM. Prevede l'adozione da parte delle banche di tutta una serie di misure di sicurezza, prevenzione principalmente delle rapine e degli attacchi agli ATM. Poi ci sono anche altri temi che vengono presidiati come le truffe, in particolare la popolazione anziana, gli attacchi di cyber physical security, le aggressioni non predatorie e gli atti vandalici e terroristici. Rispetto a tutti questi crimini il protocollo prevede misure e comportamenti idonei e finora i risultati stanno dando soddisfazione a tutti. Prima è stato detto che bisogna stare al passo della criminalità, forse meglio dire un passo avanti. Sì, l'obiettivo è sempre quello di stare sulla frontiera tecnologica, quindi utilizzare tutte le misure che il mercato specializzato mette a disposizione privilegiando alcune misure che si sono rivelate più efficaci nel tempo, a cominciare dalla videosorveglianza alle misure di gestione del contante che rendono meno disponibile appunto il denaro per i malviventi e quindi disincentivano il compimento del reato. Tutte manovre preventive alla luce del fatto che nella provincia pesarese non ci sono allarmi particolari, con una situazione criminale bancaria considerata mediamente sotto controllo. Il Pesaro si conferma una zona tranquilla, questo anche grazie all'operato del prefetto, delle forze dell'ordine e agli investimenti fatti dalle banche in sicurezza sia in misure che in procedure. Diciamo che l'attenzione deve essere sempre massima perché bisogna assolutamente individuare misure che possono rassicurare i clienti delle banche, ad esempio per il phishing, cioè rubare l'identità bancaria del cliente. Quindi in sede di comitato faremo delle proposte dove parteciperà il coordinatore dell'OSSIF, il dottore Iaconisi, che ringrazio, che è venuto da Roma proprio per la firma del protocollo e ringrazio tanto. In sede di comitato faremo delle proposte che possono sempre più aumentare la sicurezza dei clienti delle banche. Nella nostra provincia la situazione è abbastanza tranquilla, però noi ci siamo e continuiamo ad occuparci e a preoccuparci di tutti.